Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si ricorda che la statale 223 di Paganico è chiusa per circa un chilometro e mezzo in direzione Grosseto nei pressi di Campagnatico a causa di uno smottamento. A Firenze in via Dardiglione per lavori di sostituzione della rete fognaria e idrica fino al 30 giugno tratto chiuso tra via De Serragli e via Santa Monaca. Infine per i treni per un temporaneo guasto agli impianti di circolazione tra Lucca e San Pietro a Vico i treni sulla linea Lucca-Ulla potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!